salve a tutti e allora riprendiamo il solito lavoro sulla bravo 16 valvole come eravamo rimasti nell'altro video precedente dovevo fare soltanto un'altra prova su questo cilindro con un diametro differente di passaggio sulle valvole quindi a parità di condotto avendo una sezione di più ampia della sezione delle sete valvole andiamo a vedere se va a cambiare qualcosa rispetto all'altro l'altra lettura di flussaggio che abbiamo fatto precedentemente quindi valuteremo le sezioni di passaggio da poter adottare anche perché nel tempo che siamo in attesa è arrivato del collettore sia di dell'aspirazione e anche il corpo farfallato con gli iniettori questi da motocicletta quindi un corpo farfallato questo è da 44 quindi andiamo a vedere poi come va a lavorare un po anche il flussaggio sul sul corpo farfallato con l'insieme del collettore da questo abbiamo visto possibilmente c'è da andare a migliorare qualche gradino all'interno del corpo farfallato che non è stato eliminato questo lo andremo poi a valutare dopo nello stesso tempo e verrà fatto un altro tipo di valutazione vedete questo qua è un collettore creato sagomato per poter accoppiare sia il corpo farfallato sia anche la posizione del motore deve svingolarsi anche dalla dalla posizione del vano motore quindi andare a sfruttare l'aspirazione bene però da cosa andiamo a valutare anche come va a lavorare questa sezione di di collettore anche perché non è stato pulito andiamo a valutare che va a lavorare bene sia come fasature perché non abbiamo riflusso di insalita dell'aspirazione quindi dei cassetti di scarico e vanno a risalire sull'aspirazione quindi andiamo a valutare che anche la messa in fase di questo motore andava bene l'unica cosa che andiamo a riscontrare che poteva poteva creare qualche problema se lo andiamo a rigirare quindi all'imbocco della testata vedete c'è soltanto a parità di incrossazione leggero che abbiamo qui sull'imbocco prima di entrare sulla testata che soltanto questo cilindro vedete ha dei leggeri riflusso in salita quindi in questo quale andiamo a trovare di nuovo ripuliti e ripeto è per come è stata smontata dalla macchina quindi mi è arrivato soltanto per poter fare la valutazione anche del collettore di aspirazione flussata assieme alla testata però in questo caso questo viene a crearsi proprio perché le punterie tra le che a volte poi o non vanno a tenere più le punterie o è anche un difetto di tenuta di valvola nelle sete valvola quindi abbiamo avuto questo incrossazione di risalita dei riflussi quando va in scarico il motore proprio perché va a trovare le valvole che non vanno a tenere bene in questo caso le andiamo ad avere di meno e allora sulle sulla testata vedete sono state torte gli anelli dell'aspirazione proprio perché in questo caso già ho definito al 90 per cento già le sezioni dei condotti e devo soltanto valutare queste due per avere un quadro completo e così poi prima di andare a rifare gli alloggi definitivi e fare gli anelli andrà a togliere pure questi però nello stesso caso andiamo a valutare anche la tenuta dello scarico perché sullo scarico già la lavorazione è stata definita e l'unica cosa che dobbiamo valutare soltanto in questo caso è la sezione di uscita per vedere se mi va a creare qualche problema oppure no soltanto questa valutazione se poi invece di andare ad avere ancora un diametro più ampio all'uscita se si va a comportare bene lo lascerò in questo modo sull'aspirazione invece l'unica cosa che voglio fare un'altra cosa notare come ripeto lateralmente vedete qui l'imbocco della testata non è stata lavorata quindi abbiamo mantenuto l'imbocco sull'originale della testata quindi sull'aspirazione è stato fatto soltanto la lavorazione di aggiustamento a livello dimensionale dei condotti e andare a togliere una curvatura interna per avere più raddrizzamento del flusso anche perché se andiamo a poi a valutare il corpo del collettore vediamo che le sezioni di imbocco sono leggermente più ristrette come abbiamo visto che sulla testata quindi abbiamo sempre quella quel discorso che ci va a creare quell'antiritorno quindi va a lavorare bene collettore di fatto l'abbiamo visto che si va a mantenere abbastanza pulito altro accorgimento che vorrei fare vediamo se riesco poi nei tempi voglio valutare di andare a stampare una situazione di collettore più più lungilineo quindi non avere la doppia curvatura ma avere un andamento più lineare rispetto all'uscita della testata che si va a comportare con un'inclinazione quindi almeno ne voglio andare a stampare uno in 3d da andare a montare sulla testata e andiamo a montare il corpo farfallato in questo in questo modo quindi ne andrò a fare soltanto uno di stampa per poter dare questa valutazione poi alla fine vediamo se ci riesco nei tempi di poter fare pure questo questo controllo così andiamo ad avere un confronto sia da questo collettore a doppio a doppia esse creata proprio per evitare la travessa del sulla parte frontale dell'auto d'accordo vado a montare tutto così prima di andare a togliere gli anelli ho già anche il quadro completo dell'aspirazione mi mi vado a definire poi tutti gli anelli dell'aspirazione per poter fare poi un controllo finale anche perché poi sullo scarico dobbiamo ancora rettificare le sete e nello stesso tempo andrò a valutare se possiamo aumentare la sezione di uscita ma questo lo valuteremo poi dopo se si va a comportare bene lo lasceremo in questo modo anche perché non andiamo a cercare la massima potenza ma ripeto andiamo ad avere più un andamento delle delle erogazioni più corposa del motore quindi non andiamo a cercare la massima potenza e anche a livello di passaggi ad avere un ampio passaggio proprio per adeguare la massima potenza ma non perché non ci fa comodo avere qualche cavallo in più ma perché la andiamo a sfruttare come come erogazione non come come giri finale d'accordo e allora varvole montate andiamo a fossare ok e allora già fatta la testata come flussaggio e vi vado anticipare che ci sono stati ulteriori guadagni quindi prima di andare a vedere un po tutto anche perché devo fare un po tutti i vari passaggi colgo l'occasione per augurarvi buon capodanno e felice anno nuovo quindi 2023 vi ringrazio tutti perché anche se in pochi ma siete stati costanti nel mio canale e fra non molto già siamo prossimi ad arrivare a un milione di visualizzazione e quindi mi fa piacere da una parte sia per me e anche per voi quindi speriamo che il 2023 sia anche costante come quest'anno d'accordo e allora vado a dire soltanto una cosa prima di poi fare tutti i vari passaggi e vedere i grafici di portata quindi con i guadagni ottenuti che in questo collettore momentaneamente lo andiamo a colpo farfallato lo andiamo a fussare con questo tipo di collettore poi dopo ne stamperò uno in 3d per vedere se indirizzando bene come direzione sulla testata è condotto andiamo a sfruttare di nuovo questo tipo di corpo farfallato per vedere un po se con un collettore stampato con l'inclinazione giusta vediamo un po le differenze di se abbiamo delle differenze di riempimento migliore o peggiore quindi lo andiamo a valutare poi dopo nell'altro video finale che andiamo a fare dopo che avrò inserito le sedi nuove quindi andiamo a definire un po tutto il lavoro d'accordo quindi vado un po a completare tutte vediamo questi e portate che ci sono a livello di modifiche già fatte sulla testata e allora andiamo a vedere questa è la testata ancora quella originale quindi da questi dati dell'originale andiamo a passare alla prova poi finale della lavorazione che momentaneamente devo ancora fare il discorso delle sete valvole e questo è il confronto della della parte finale quindi nel video precedente abbiamo visto alcuni passaggi con dei miglioramenti e questo è poi l'ultima finale che andiamo a vedere il comportamento questa è l'aspirazione come lavorazione nel senso giusto e poi ho aggiunto sempre il discorso del collettore vedete e qualcosina va a perdere come vedete quindi iniziando poi da 7 millimetri andiamo a perdere qualcosa però ripeto è sempre riferito anche alla lavorazione del condotto cioè se abbassiamo le prestazioni del condotto abbassano ancora le prestazioni del collettore in questo caso nella prova poi che andrò a fare finale dopo aver fatto le sedi vediamo se riesco a stampare almeno un condotto del collettore quello più dritto quindi senza le doppie curvature vediamo se poi andiamo a recuperare qualcosa per il momento questa è la prova dopo ho fatto sempre le prove di flussaggio al contrario vedete che quello che si fa notare che nelle basse aperture potremmo ancora migliorare come abbiamo visto però rispetto alla volta passata abbiamo perso leggermente per andare a recuperare in alto la prova di flussaggio dell'aspirazione in questo caso ci sarebbe qui vedete dove c'è questo abbassamento della della linea della della prova al contrario va a determinare che in questo tratto si vanno a creare delle turbulenze e quindi va a rallentare il flusso dove c'è la guida quindi purtroppo dove c'è l'incavatura della guida nel senso contrario va a trovare l'ostacolo e della rientranza della guida quindi va a portare un po' queste turbulenze che poi man mano che apre la valvola il condotto si raddrisse un po' e va a migliorare quindi a livello di portamento di condotto poi abbiamo una sezione che ci va a migliorare quindi come sezione ci siamo a livello di lavorazione se andiamo a provare lo scarico quindi questa è la prova dello scarico nel senso giusto vedete che nelle basse apertura abbiamo quel miglioramento dovuto proprio ai flussi che dalla camera vanno verso l'uscita e poi andiamo adeguagliare anche il senso dell'aspirazione come portata quindi quello è nel senso giusto l'aspirazione e questo lo scarico è nel senso giusto però mentre nell'aspirazione abbiamo l'ostacolo delle valvole nello scarico abbiamo un miglioramento poi si stabilizza però potrei fare ulteriore lavorazione però siccome andiamo adeguagliare anche l'aspirazione e ripeto per la massima potenza potremmo ancora aumentare le sezioni di passaggio ma in questo caso mi vado a soffermare per adesso a queste lavorazioni e di fatto nello scarico la prova al contrario quindi comportandoci come l'aspirazione cioè dalla parte del collettore andiamo verso la camera questa è la perdenza che abbiamo dovuto proprio all'impatto del flusso all'impatto del flusso qua vedete in questo grafico nel disegno della mia pagina l'impatto del flusso verso la valvola e quindi abbiamo questo rallentamento ora vado a dare le letture in GFM però li vado a confrontare tutte e due assieme quindi abbiamo una prova di flussaggio totale quindi ho creato il doppio foglio come qualcuno mi aveva accennato qualche tempo fa e allora questa è la colonna della testata normale di fatto abbiamo una media più bassa e questa è la colonna della testata poi finale quindi la media è 144,77 contro 129,13 ma qui alla diversa alzata abbiamo sempre quel guadagno di differenza che siamo passati da 5 CFM a un millimetro e poi via via abbiamo sempre migliorato fino alla 14 millimetri che abbiamo quasi un incremento di 20 30 CFM quasi quindi da 157 siamo passati a 185 d'accordo di fatto qui ho fatto l'appunto proprio confronto originale con quella finale e questo è il grafico che abbiamo come comportamento vedete il guadagno che abbiamo sia nelle basse aperture e poi via via questo è tutto quello che abbiamo guadagnato in termini di potenza quindi questo si va a tradurre proprio in potenza del motore e di fatto in questo modo poi possiamo anche valutare il discorso del fin dove abbiamo l'opportunità di utilizzare un tipo di abacame rispetto a qualche altro d'accordo ci aggiorniamo al prossimo video vi rinnovo di nuovo gli auguri di buon anno e ci andiamo a risentirci più amanti mettete sempre un mi piace nel video grazie a tutti Grazie.